fratelli bianconeri e non eccoci qua di nuovo secondo video di serata per parlare con voi del la pagellona di juventus andoria dei giocatori della juventus la partita come dicevo poch'anzi non è che mi abbia lasciato ricordi eccelsi se non la doppietta del nostro cristianone e un'altra vittoria che ci permette di arrivare a 53 punti ciò non toglie che si soffre sempre terribilmente sarà il periodo evidentemente ad allegri deve averlo consigliato qualche medico di poter di continuare a far soffrire così i suoi tifosi tant'è un'altra vittoria detto questo veniamo le pagelle di oggi allora per in tra l'altro sono rimasto sorpreso perché non sapevo che avesse che avrebbe giocato lui dicono che si sia riacutizzato un leggero problema per scesni e oggi ha giocato per in per in gli ho dato sei e mezzo perché secondo me non ha sbagliato nulla il gol chiaramente lui ha fatto quello che ha potuto ma sappiamo tutti che per in non è un pararigori la sampdoria non è che l'abbia impegnato in modo particolare quindi quello che ha fatto secondo me l'ha fatto molto bene quindi ottima prestazione De Sciglio gli ho dato sei e mezzo questo ragazzo mi ha pian piano conquistato devo dire ovviamente come dico sempre la mia frase fatidica non parliamo di un fenomeno però è un giocatore che si è calato molto bene nel mondo della juventus anche oggi la sua parte l'ha fatta si è comportato bene in difesa si è proposto davanti quindi comunque ha creato qualche problema sulla sulla fascia di sua competenza anche se lui per primo sa bene che una volta che ritornerà cansello e non dovrebbe tardare tantissimo perché di joao si parla di rientro a gennaio per cui sarà benissimo che molto probabilmente dovrà rientrare nei ranghi probabilmente in panchina anche se anche se non mi meraviglierei più di tanto e questo suggerito mi da un utente che che allegri lo potesse provare anche come centrale perché sono convinto che forse non sfigurerebbe nemmeno tanto certo non ha nel colpo di testa la sua proverbialità però io credo che una piccola prova si potrebbe fare gli ho dato sei e mezzo chiellini a chiello il nostro capitanone grande chiello come sempre gli ho dato sette secondo me ha fatto una partita perfetta senza sbavature ha chiuso tutti i varchi agli attaccanti della sampdoria praticamente non permettendogli nulla per cui devo dire ottima prestazione anche oggi del nostro chiello rugani devo dire che rispetto ad altre prestazioni io gli ho dato sei e mezzo a rugani che rispetto ad altre prestazioni l'ho visto molto meglio l'ho visto molto più convinto l'ho visto determinato si è disimpegnato bene a parte uno svarione verso verso quasi a centro campo che secondo me ha fatto un fallo a mio parere inutile però questa può essere la gioventù in esperienza non dimentichiamoci che rugani non è che sia uno che abbia un'esperienza di chissà quale tipo anzi tutt'altro però devo dire che mi è piaciuto mi è piaciuto oggi l'ho visto molto bene l'ho visto in palle questo mi fa molto pensare bene per il futuro alexandro gli ho dato sei un mezzo passetto indietro secondo me io però continuo a ripetere che questo giocatore vive troppo di alti e bassi non riesce mai a mantenere costante una forma non so da che cosa è dato ora noi l'abbiamo l'abbiamo rinnovato io sono felice che abbia rinnovato con noi perché io ad alexandro voglio molto bene per cui mi auguro che riusciamo veramente a rivedere il giocatore del primo anno che dopo il primo anno appunto secondo me non si è più visto a parte in qualche sporadica eccezione anche oggi secondo me ha sofferto molto la fascia destra della della sampdoria non è stato il solito propositivo alexandro giocatore che fa della sua forza anche un po la sua caratteristica non mi è piaciuto particolarmente però un 6 glielo dato emre chan gli ho dato 6 anche se sarebbe stato da 5 gli ho dato 6 più che altro per tentare di infondergli un po di coraggio anche se non mi sente l'ho visto qualche volta perdere i giocatori dalla sampdoria non essere sempre lucidissimo io credo che questo dipenda molto anche dal ancora deve entrare nel sistema juve completamente ha giocato poco fino adesso ormai non è più riduce proprio riduce dall'infortunio però comunque sicuramente deve prendere il ritmo partita però diciamo che anche oggi secondo me ha sofferto in fase di centrocampo un po la velocità e il pressing dei giocatori della sampdoria il migliore emre chan è ancora a liverpool pianic gli ho dato 6 classico uomo d'ordine partita di ordinaria amministrazione senza né altissimi né bassissimi una partita del solito tran tran di pianic che ha fatto quale ha dato qualche illuminata rara però io ripeto questo è un giocatore che io mi aspettavo molto molto di più da pianic sinceramente non voglio dire di essere deluso perché deluso forse no però è un giocatore che continua a prendere 6 massimo 6 e mezzo 6 massimo 6 e mezzo è un giocatore che non si eleva mai a dove invece forse c'è una squadra come una juventus che vuol diventare padrone del mondo quasi dovrebbe avere quindi continua a non piacermi questo giocatore mi dispiace io non nulla contro pianic perché se mi facesse una partita da otto gli darei 10 ma partite da otto di pianici secondo me non le vedremo mai matuidi gli ho dato 6 ha giocato favorecitante non è stato il miglior matuidi si è fatto sul classare in alcuni movimenti come si come dicevo prima del suo predecessore a centrocampo dove ripeto la sampdoria ha fatto una partita per me a centrocampo perfetta perché giocava con un pressing totale alto che creava molto problemi al nostro centrocampo per cui non ho visto il solito matuidi però un 6 glielo do perché lui lui è uno che veramente i tacchetti delle scarpe li consuma di bala 6 e mezzo per mantenermi basso gli avrei voluto dar 7 non glielo ho dato perché secondo me ha sbagliato ha sbagliato due gol che non sono da di bala il primo è stato fortunato perché la palla è uscita di tanto così nel secondo invece ha proprio ciabattato completamente il tiro però l'ho visto meglio rispetto alle ultime prestazioni perché si sta calando in quella parte di centrocampo dove a noi serve a noi serve un elemento che vada a sostituire pjanic non voglio dirlo ancora forte ma potremmo anche averlo trovato in di bala vedremo ronaldo 7 e mezzo giocatore super iper stra galattico giocatore fondamentale mi voglio fermare qua perché non serve manzucchi 5 e mezzo 5 e mezzo di stima come dico ogni tanto io non mi è piaciuto oggi marione ha passato una battuta dal resto corre come sempre tanto come un forse nato avanti indietro però ripeto non non ho visto il solito marione l'ho visto un pochino affaticato credo che abbia bisogno di riposo anche lui come tutti loro con tutti gli altri e come tutti noi forse perché anche noi tifosi qualche volta avremmo bisogno di un po di riposo è chiaro che non è questo il mazucchi che serve alla juventus ma sappiamo bene che marione nostro non tradisce mai bernardeschi gli ho dato 6 entrati in campo si è mosso un pizzico del suo l'ha fatto non è questo il giocatore che io mi aspetto di vedere il giocatore che mi aspetto di vedere io è ben altro ma io credo che però su questo ragazzo abbia un po ragione allegri quando afferma che secondo me bernardeschi deve ancora capire che non è più alla fiorentina secondo me qui allegri ha molta ragione io credo che debba ancora crescere un bel po bernardeschi ha un enorme potenziale berna svegliati perché dipende molto da te dagli scosta 5 e mezzo è un giocatore che da quando è successa quella storia lì con di francesco quel del sassuolo secondo me non si è più ritrovato questo ragazzo non mi piace non mi piace molte volte la velocità che ha gli fa perdere palloni anche oggi ne ha persi un paio così è un giocatore che ci sarà utile perché sicuramente ci sarà utile però questo costa in questo momento secondo me è un giocatore inservibile in questo momento qui speriamo di ritrovarlo in fretta perché sicuramente uno di quei giocatori che può fare la differenza è il classico spacca partite do un 6 e mezzo ad allegri do un 6 e mezzo anche ad allegri perché comunque secondo me la partita l'ha impostata bene e voglio dare un saluto in fondo a questo video al mio amico fabio quagliarella che anche oggi non ha deluso parte il gol che ha fatto ho apprezzato da un lato il fatto che non ha esultato ma non per l'esultanza io sono contrario a questo tipo di cose ma perché lui veramente poteva diventare un giocatore realmente importante e a proposito di questo a proposito di fabio quagliarella quale mando un grandissimo abbraccio in grande amicizia vorrei dire che c'era qualcuno qualche anno fa che gli preferiva giovinco e non voglio fare il nome di chi era questo soggetto gli preferiva giovinco la differenza è che giovinco a 30 anni o a 31 quanti ne hanno non lo so per avere un pochino di successo e guadagnare due spiccioli è dovuto andare là in america ma neanche in america in canada dove il 95 per cento delle squadre canadesi nella nostra serie a farebbe fatica a salvarsi ok la serie a canadese se la porti qua nella nostra serie a la metà fan fatica a salvarsi forse anche di più ok prima cosa e seconda cosa invece quagliarella 35 anni suonati 12 gol in campionato nove partite di seguito che segna ma qualcuno gli preferiva giovinco ciao